Sulla sicurezza stradale avrete a disposizione slide e riassunti. Sono contento perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, un provvedimento che ricordo potrà essere arricchito ed emendato in Parlamento, è un disegno di legge e l'obiettivo è che sia norma entro l'autunno. Sono le due o tre priorità che mi piace da Ministro e da genitore sottolineare, l'assoluto giro di vite con la toleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe, qualunque sia il suo stato d'animo, nel senso che chiunque utilizzi droghe e venga trovato positivo al test antidroga ha la revoca della patente fino a tre anni. E quindi il messaggio molto chiaro è se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni la patente non la rivedi più. Sull'utilizzo del cellulare non ci sarà solo la decortazione dei punti dal telefonino ma ci sarà la sospensione della patente, anche in questo caso visto che il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuto alle chat o ai whatsapp, così come non ci sarà più solo la decortazione dei punti della patente che purtroppo spesso in passato ha coinvolto la mamma, la nonna, la cugina, la sorella e la cognata di chi veniva multato, anche in questo caso per circolazione, contromano, sorpasso, azzardato, mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza per i bambini, c'è la sospensione della patente. Sulle due ruote non c'è nessuna incombenza in più per i ciclisti, nessun obbligo in più rispetto alla normativa, anzi si sta studiando con la Polizia Stradale una distanza di sicurezza sotto la quale non è possibile superare le biciclette, mentre per quanto riguarda i monopatti, leggevo su qualche giornale che noi saremmo eccessivamente restrittivi, vi ricordo ai colleghi che dal primo settembre non ci sono più i monopatti in giro per Parigi dopo un referendum, giusto per intenderci, qua ciascuno potrà usarlo come crede, saranno disattivati e impossibili da usare fuori dal perimetro urbano, ci sarà un limite di velocità e ci sarà il casco e l'assicurazione obbligatoria. Ultima riflessione, il Consiglio dei Ministri approvando questo testo ha dato mandato al Ministero delle Infrastrutture che ho l'onore di guidare e di emanare un successivo regolamento che stiamo già studiando per mettere un po' di ordine nella giungla degli autovelox, ovvero sia una omologazione a livello nazionale per evitare l'anarchia dell'autovelox fai da te e poi ho chiesto agli uffici di predisporre anche delle localizzazioni adatte per tutelare l'incolumità, la vita e la sicurezza dove poter posizionare degli autovelox, altresì localizzazioni che non verranno indicate come prioritarie per la salute e la sicurezza pubblica, ovvero sia piazzarti l'autovelox dove improvvisamente la velocità sceglie dai 90 ai 50 per fare cassa come comune, non sarà più possibile. Queste sono alcune delle novità che conto di verranno norma entro l'autunno, se ci sono domande per qualsiasi provvedimento illustrato siamo a vostra disposizione. Molto vero ovviamente il Presidente dell'Andarvia, abbiamo la prima domanda di Riccardo Angelo Ronconi di Eurocomunicazione per il Ministro Salvini. Buonasera a tutti quanti, grazie anche al Ministro Musul, anche se la mia domanda è il Ministro Salvini. Questa stretta sui monopattini che in molti ci aspettavamo anche perché comunque questa anarchia sotto gli occhi di tutti, io stesso una volta ho soccorso un ragazzo con un monopattino scarico su una superstrada di notte. Quindi allora stavo pensando che inevitabilmente molti saranno magari più orientati verso le due ruote, verso la bicicletta appunto che giustamente deve essere tutelata. Non pensa che a livello scolastico quella della sicurezza stradale debba essere una materia sempre più importante e abbia un sempre maggiore peso proprio perché ugualmente io vedo anche ragazzi contro mano con la bicicletta, insomma, magari non si rendono conto di quello che fanno. Grazie. Sì, infatti c'è una premialità sulla patente per chi seguirà corsi veri di educazione stradale, ringrazio il Ministro Valditara. Queste norme non hanno un nemico, sono amiche della sicurezza della salute pubblica. Quindi si cerca di portare un po' di equilibrio, un po' di regole, un po' di buonsenso, educazione, prevenzione, controlli e repressione laddove evidentemente la situazione sia grave. Sulla velocità dei monopattini, ripeto, quelli in sharing già ce l'hanno oggi controllata, però se uno va su Amazon adesso si può comprare un monopattino e andarci alla velocità che vuole anche in tangenziale, assolutamente folle sia perché lo guida sia per gli altri. Quindi contiamo che torni un po' di ordine, penso ai marciapiedi di Roma, di Milano e delle grandi città dove devi fare, se hai un passeggino, una carrozzina, la gincana fa mezzi abbandonati in ogni dove.